Ciao ragazzi, video aggiornamento su come faccio e disegno le mie sopracciglia Nel tempo la mia tecnica è un po' cambiata e soprattutto l'utilizzo del prodotto perché in questo video vado ad utilizzare questo prodotto che ho preso in America ed è quello di Anastasia Beverly Hills, il Deep Brow Comade e questo è nella colorazione Chocolate In Italia penso si possa reperire tramite internet In America il costo è contenuto perché secondo me costano come altri prodotti per sopracciglia era su intorno diciamo con rapporto dollaro euro intorno alle 15 euro e sono all'incirca 4 grammi di prodotto quindi comunque tanto perché veramente c'è tanto prodotto all'interno è waterproof e ha una scrivenza e una durata eccezionale ma veniamo noi perché voglio farvi vedere quindi come le disegno io vi lascio al tutorial e ci vediamo dopo Ciao! Grazie a tutti. 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 Vi mando un grandissimo guacione e vi aspetto a tutti i prossimi video. Ciao.